Mamma mia che partita ragazzi, un'intensità da una parte e dall'altra clamorosa, veramente 2-3-5-2 che si davano delle randellate frontali uno con l'altro, uno scontro di forza tra due tir che si incontrano e si vanno a sbattere frontalmente, veramente qualcosa dal punto di vista tattico molto 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 interessante e tra l'altro 2-3-5-2 delle due squadre anche con caratteristiche simili da parte dei loro giocatori e con gli stessi difetti se vogliamo, in parte alcuni difetti che sono abbastanza simili tra le parti, quindi è veramente uno scontro micidiale che a un certo punto sembrava anche un po' in equilibrio a un certo punto della partita, era un po' difficile, c'era un po' un'aria di... eppure da entrambe le parti c'è stato grande sacrificio, grande voglia, grande intensità, grande anche sacrificio anche nel tornare indietro, nel recuperare, insomma poi l'Inter l'ha spuntata e meritatamente abbiamo concluso gli ultimi 20-30 minuti anche un po' con i cambi che si hanno dato una mano sicuramente l'ampiezza della rosa nostra è diversa da quella dell'Udinese e l'abbiamo portata a casa. Tre punti fondamentali perché non erano scontati contro l'Udinese che è una signora squadra che ci ha messo sotto in casa loro all'andata, una delle pochissime squadre che veramente ci ha messo sotto durante una partita quest'anno perché tanti punti che li abbiamo persi per errori nostri o per qualche folata di qualche partita però veramente l'Udinese ci ha messo molto sotto all'andata, oggi abbiamo vendicato quel risultato almeno. E poi sono tre punti d'oro, d'oro per quanto riguarda la classifica, gli obiettivi che abbiamo rispetto alle rivali che dovranno giocare anche domani. Quindi, che dire ragazzi, mi raccomando intanto lasciate like al video, condividetelo e adesso andiamo ad analizzare quello che è successo stasera. Intanto partiamo, ovviamente poi faremo anche la live post partita verso le 11.45, mezzanotte, vi aspetto su Twitch, però vedendo la partita intanto bellissimo il gol di Mkhitaryan che secondo me è il gol dell'incontro. È il gol che ha sbloccato, che ha portato dalla nostra l'inerzia della partita alla fine dei conti. È bello, bello il gol per come è arrivato, oltre per la finalizzazione, ma per come è arrivato anche con Di Marco, che sì la tecnica ma anche la lucidità di non far singolosire, di metterla nell'area piccola per l'attaccante, ma con la coda dell'occhio vedere dietro servire bene Mkhitaryan e poi al volo grande gol, grande piattone. Però questo è un gol che ho telefonato ieri, no? Quando vi dicevo, guardate che l'Udinese si coprirà bene, sarà uno scontro difficile, 3-5-2 complicato. Poi ci manca chi salta all'uomo e quindi come si può fare? Saranno importantissimi i tiri da fuori. Bisogna arrivarci anche un po' con i centrocampisti, no? Con le nostre mezzali, con i tiri da fuori, eccetera, eccetera. E com'è che abbiamo sbloccato l'incontro realmente? A parte il rigore, vabbè. Con quel tiro lì, e poi anche con altri tiri, sempre da fuori, di Barella, di Celanoglu e lo stesso di Mkhitaryan, da fuoriare. Era quel modo con cui siamo stati un po' più pericolosi, per una parte di incontro, finché le squadre erano rognose, si chiudevano, eccetera, eccetera. Quindi, come avete visto, è... E poi un'altra cosa importante, anche questa, detta ieri in pre-partita, che sono a volte poco visti, però qui, quelli che li vedono, secondo me, si spoilerano la partita, tanti forse non vengono visti perché uno non vuole spoilerarsi la partita, perché, in effetti, un'altra chiave molto importante sono stati, per noi, i terzi di difesa. Ottimo, infatti, di aver messo Darmian dall'inizio, e bastoni, ovviamente, dall'altra parte, perché i terzi hanno aiutato tantissimo, perché l'Udinese, schiacciandosi e facendoci un po' impostare, ci permetteva di venire su con i braccetti, che potevano poi buttarsi o sull'esterno per fare i cross, tipo bastoni, oppure anche buttarsi dentro l'area, aggiungersi in area, proprio come, non solo come inserimento, ma anche di testa, l'ha fatto bastoni tre, quattro volte, una volta anche addirittura a cerbi, se sganciato è andato lui, oppure portare il pallone. Tante volte anche Darmian, all'inizio, prendeva campo andando a portare il pallone, e Zaghi chiedeva a Dunfrist, vieni un po' più dentro, che Darmian, che Barela va fuori lungo, Darmian lo supporta dall'esterno, tu rientri, cioè, e si crea una catena sulla fascia, che è un modo per cercare di pungere, di sopravvanzare, senza avere, purtroppo, quello che ti salta l'uomo, perché noi non ce l'abbiamo, non è che lo puoi creare sul momento, allora devi trovare tutto nei meccanismi per andare in avanti in maniera efficace, che però è molto più complicato, perché quando non hai l'uomo che ti risolve da solo certe situazioni, con la schelia, per esempio, eccetera, devi usarne cinque per arrivare allo stesso punto dell'azione, devi usarne cinque facendo mille giri, mille movimenti, contromovimenti, sincronie, passaggi, uno, due, triangoli e tutto, e quindi si complica notevolmente la percentuale, cioè, va a aumentare la percentuale di non riuscita della cosa, perché più ingredienti hai, è più difficile poi che tutti quanti siano portati a termine per riuscire a fare l'azione, quello è il concetto di fondo, purtroppo il difetto di questa Inter qua. Dicevo, quindi, vabbè, i terzi abbiamo detto, quindi, ecco, tornando al discorso, noi facciamo molte difficoltà contro le squadre chiuse, poi si chiudono bene come l'Udinese, lo stesso modulo, con il raddoppio sugli attaccanti, perché hanno tre difensori su due attaccanti, eccetera, eccetera, diventa molto complicato, e c'è poco da fare, al fatto che non abbiamo chi salta l'uomo, ci aggiungiamo anche che, anzi, a parentesi, proprio perché non abbiamo nessuno che salta l'uomo, per quanto Dunfrid stasera abbia fatto tanta gamba, tanto sacrificio, anche delle ottime corse all'indietro, però non salta l'uomo e soprattutto ha limiti tecnici clamorosi, cioè lui può andare lungo, eccetera, però poi non arriva mai la palla al nostro attaccante, si è preso il rigore bene, ma per la gamba, per l'intensità, per il movimento, ma è un giocatore, che non è neanche un giocatore di calcio, Dunfrid, è più un atleta, è più uno che ha grande fisico, ma la palla non la devi mai vedere, deve solo fare il movimento senza la palla, e riuscire ad andare oltre, o prendersi il fallo, il rigore, l'inserimento e via, cioè quando tocca la palla si salvi chi può. Dicevo, concludendo la parentesi, proprio per questo motivo è molto importante cercare in questi mesi di integrare Bellanova, perché per quanto sia molto giovane, deve ancora maturarsi completamente, lo so ovviamente, però è l'unico in rosa che ha qualche, non è un super driblatore, però ha qualche accenno di puntare l'uomo ogni tanto, ok? E quindi è l'unico che ti dà un'alternativa quando le cose sono un po' chiuse, dobbiamo cercare di integrarlo magari in qualche partita inferiore per metterlo all'interno della rosa e poterlo utilizzare in qualche partita particolare. Detto questo, ecco un'altra cosa che ha come difetto questo Inter, abbiamo visto anche stasera, è che la cosa che non saltiamo l'uomo, e poi nonostante tutto, riusciamo comunque a giocare molto, grazie alla coralità del gioco di Inzaghi e tutto quanto, quindi arrivare, riusciamo comunque a creare tante situazioni, comunque pur senza avere quello che salta l'uomo, però sbagliamo tanto davanti alla porta, stasera tre gol per carità, però rigore, un'attivazione e poi la chiusura sull'autaro, però quello anche perché ormai c'è il campo aperto, eri 2-1 e trovi qualche spazio in più, però se non sblocchi la partita, comunque l'Inter ogni partita fa 20 tiri, tenta 20 tiri in totale di media più o meno, ma ne mette dentro pochissimi, c'è 1, 0, 2 forse, cioè questa cosa è un'altra cosa che paghiamo molto, perché se almeno, cioè se non hai chi punta l'uomo, ma sei bravissimo con la coralità, Inzaghi bravo col gioco e tutto quanto, quelle volte che arrivi dentro l'area, visto che ci metti una fatica bestia per arrivarci, perché devi passare attraverso un gioco complicato, ecco, almeno bisogna finalizzare, e non c'è niente da fare, nessuno dei nostri attaccanti è un finalizzatore, vero e proprio, cioè Lukaku sarebbe anche, ma è fuori forma, non c'è, Lautaro, sì, fa il gol, poi è anche complicato, ma ne sbaglia una marea, ne fa tanti, perché l'Inter crea una valanga di occasioni, ma rispetto alla valanga, ne mette dentro non tantissimi, per essere un vero e proprio bomber, e quindi ne sbaglia tanti Lautaro, Dzeko anche lui non è espressamente un uomo d'area, è più una punta completa, che vaga, fa un sacco di cose, però non è un cecchino assoluto, e Correa addirittura è proprio, non è neanche proprio un attaccante, è un trequartista, a parte che adesso non c'è neanche praticamente, né mentalmente né fisicamente, quindi, questo è un altro problema un po' dell'Inter, la finalizzazione nuda e cruda, no, e quindi da qua nascono alcuni problemi a volte, poi è chiaro che siamo devastanti quando, quando troviamo gli spazi, quando gli altri magari non chiudono le linee di passaggio, siamo in vantaggio, 1-0, 2-1, la sblocchiamo, portiamo la partita dalla nostra parte, gli altri devono per forza provare un po' ad attaccare, e a quel punto lì, l'Inter, con gli spazi aperti, ma non perché fa le ripartenze, perché l'Inter non è proprio una squadra da ripartenze, non è che abbia grandi corridori, che partono alla Quarascheglia, però con il gioco, trovando i passaggi, l'Inter va dove vuole, va dove vuole, perché ha grande sincronia, discreta tecnica, a parte Dunfries, che ha da serie D circa, dalla D alla C, più o meno ha una tecnica come un giocatore medio della nostra primavera, ma non in più bravi, uno medio della primavera, questo è Dunfries, a parte quello, il resto, è tutta gente che ha discreta tecnica, al centrocampo, Di Marco, la difesa, i tre difensori nostri, per essere centrali di difesa, tutti tecnici, cioè a Cerbi è tecnica, Bastoni è tecnica, Skriniar non sembra, perché è un po' goffo, ma è un giocatore che ha percentuali di passaggi altissime, altissime di precisione, Tarnian è un terzino, chiaramente ha tecnica per essere un centrale, quindi capite, è un po' quello, e De Vrij stesso, quindi questo è l'Inter ragazzi, i pregi difetti sono questi, ora concludendo ragazzi, poi una menzione d'onore, sicuramente a Dzeko che non ha trovato il gol, ha sbagliato qualche pallone, come dicevo anche prima, non è un finalizzatore, però un lavoro enorme, al 41esimo ha fatto un recupero di 65 metri di corsa, per fare il terzino sinistro, e bloccare un'azione pericolosissima, che poi è arrivato il gol dopo due minuti infatti, però Dzeko l'ha ritardato, perché poteva esserci già prima il gol, non so, penso che nessun'altra delle nostre punte avrebbe mai fatto una cosa del genere, lui l'ha fatto, quindi ha 36 anni, grande, grande, grande sacrificio, e poi all'86esimo, cioè fino al 90esimo, ha corso come un pazzo Dzeko stasera, ha fatto il terzino sinistro, terzino destro, il mediano, il centrale, le ha fatte tutte, poi chiaramente un po' di stanchezza, anche nel buttare via magari la palla alla fine, l'ha svirgolato qualcosa, però ragazzi è un sacrificio pazzesco, e dà un esempio alla squadra enorme, sono cose che ci mancano, i leader un po' sul campo ci mancano, quindi bella cosa, poi il gol, ecco sul gol subito, finisco su questo dai, un po' in disordine stasera, ho tante cose da dire, però il gol subito ragazzi, dispiace un sacco, però è un erroraccio un po' di Lukaku, e chiudo con un'altra cosa tattica, l'Inter proprio perché deve fare tanto gioco, per poter attaccare, perché non ha quello che salta l'uomo a punta, o quello che fa la magia del tiro da 40 metri, il gol sotto l'incrocio, questa roba qua, ecco che si deve spingere molto in avanti, quando ti spingi molto in avanti, i due esterni altissimi a fare gli esterni ad attacco, la mezzala che si inserisce, le due punti in avanti, cioè si è super avanzato, quando la palla arriva alla punta, spesso alla punta di riferimento, chiunque essa sia, non si può sbagliare, né tecnicamente, ma soprattutto la scelta, perché se sbagli la scelta, e fai una ripartenza, e tu hai tutta l'Inter bilanciata in avanti, e poi la subisci, tante volte, io me la sono presa in passato con Lautaro, per quanto sia un giocatore forte, che sbaglia le scelte, che sbaglia certe volte a certe giocate, e si fa fregare la palla, oppure con Barella stessa cosa, quando l'Inter è sbilanciato in avanti, poi si perde la palla, questo giro è Lukaku, Lukaku palla a lui, poteva, cioè, il Mkhitaryan che va in inserimento, può passargliela, però deve fare un passaggio che è più deciso, molto più veloce, perché c'è la diagonale del terzino, lo deve vedere, perché Lukaku lo poteva vedere, quindi, tiri la palla più forte, non lenta, perché se no la raggiunge il terzino, e poi come è successo, contro piede gol, ok? Oppure devo alzarla, metterla in profondità, per Mkhitaryan, non lenta, sui piedi, e intercettabile, e poi ripartenza, sono queste le cose che mi fanno imbestialire ragazzi, tutte le volte, che sia uno, che sia l'altro, Lautaro, molte volte, Geku ne fa meno di queste cazzate qua, perché ha più esperienza, magari la gioca più semplice a volte, però non fa cagate, in condizioni in cui la squadra è esposta, se deve fare quel che passaggio lo fa, quando è davanti, e la squadra è già dietro, non lo fa quando hai sei persone in avanti, oltre a lui, e lui fa il regista, lì non fa le cagate, perché sono i momenti cruciali, per quello mi incazzo, l'Inter non può permettersi di fare questa roba qua, perché la paga carissima, per come gioca, e per come poi è esposta, che la faccia Lautaro, Barello, Lukaku è indifferente, è una cosa che non è ad persona, è proprio una cosa fattuale per l'Inter, se fai un errore in certe circostanze, è un dito nel dretano clamoroso, poi quella volta non becchi la ripartenza, non becchi il gol, e uno dice, sei così critico, ma poi la becchi a volte, come su stasera, e ti sei complicato la partita, ok, va bene ragazzi, io vi saluto, ci vediamo dopo in live, e domani per le pagelle, forza Inter, mai mollare, sempre con la squadra, e, devo farci un video su questa roba qua, perché, vabbè, ne parleremo, c'è tanto nervosismo, tanto ostracismo, esoneriamo questo, togliamo quell'altro, ma, bisogna un po' parlarne fuori, questa roba qua, perché stiamo perdendo un po' la testa, comunque, intanto stasera, 3-1, meritato, bella partita, grande coraggio, grande voglia, e anche grande coraggio di Inzaghi, ha lasciato fuori Lautaro dall'inizio, cosa che pensavo impossibile, metti che vada malino la partita, metti che vada malino, io credo che la tifosoria avrebbe fatto il disastro, dicendolo, ecco, vabbè, andiamo avanti, a dopo, a dopo, live.